Musica Domenica il Vescovo a merito di Verona, Monsignor Giuseppe Zenti, celebra in cattedrale con una santa messa alle 18.30 i 20 anni di episcopato, stata smessa in diretta su Radio Pace e Tele Pace. Circondate di bellezza, la cura del tempo buono, è il titolo dell'evento organizzato dalla Fondazione Verona Minori Jerusalem in collaborazione con il Comune di Verona in programma sabato 20 gennaio nell'auditorium della Gran Guardia, la presentazione questa mattina a Palazzo Barbieri. Si avvicina il 27 gennaio e Verona si organizza per la celebrazione del Giorno della Memoria, tante le iniziative messe in campo così come è illustrato questa mattina in Comune. Ben trovati a tutti voi in questo appuntamento con Tele Pace News. C'è bisogno di creatività e di coraggio per aprire squarci di novità in un mondo che sia contenta dei profitti. Nell'incontro di questa mattina che Papa Francesco ha avuto con i partecipanti all'incontro dell'attognolo Young Professional Association, di cui ha sottolineato con gratitudini e apprezzamento l'impegno con i dicasteri della Curie e con le rappresentanze pontifice nell'ambito delle Nazioni Unite, il pontefice ha invitato i giovani a sporcarsi le mani, tenendo presente che davanti a loro c'è una vita da spendere, non da conservare, da chi possono venire imprese audaci e visioni ardite se non da cuori giovani e impavidi, si è chiesto il pontefice. L'invito del Papa ai giovani è stato quello di non temere di rischiare, facendo di se stessi un dono e non accontentandosi di vivere in mezzo a tante cose materiali spesso inutili. La sollecitazione infine a guardare il creato che ci spinge, ha sottolineato Francesco, ad essere a nostra volta creatori di armonia e di bellezza. Questa domenica il Vescovo a merito della Diocesi di Verona e di Vittorio Veneto, Monsignor Giuseppe Zenti, celebra in cattedrale a Verona con una santa messa alle 18 e 30 i vent'anni di episcopato. Vi proponiamo uno stralcio dell'intervista a Monsignor Zenti che andrà in onda poi il sabato alle 20 e 30. Cosa vuol dire fare il Vescovo? Fare il Vescovo vuol dire essere i rappresentanti degli Apostoli nel tempo attuale, quindi deve essere degli Apostoli. A noi interessa come Vescovo portare Gesù Cristo annunciare lui, come ha fatto San Paolo, come gli Apostoli e questo è il nostro compito, annunciarlo, testimoniarlo, ma far percepire che Gesù Cristo non è uno qualunque, neanche un Messia qualunque, è il senso del vivere. Ecco questo credo di averlo cercato almeno di trasmetterlo alla passione per Gesù Cristo e proprio amando la gente, amarla perché la gente capisca che vale la pena di essere amata da Gesù Cristo attraverso anche il suo Vescovo. Fare il Vescovo vuol dire anche dire la verità, non per buttare in faccia la verità come un faro abbagliante. No, la verità è un faro che illumina ma non abbaglia, però rappresentare la verità, anche morale, anche etica. In un tempo in cui la verità era sempre di più messa da parte, pensiamo al pensiero debole, quel pensiero che sembrava piuttosto liquido, io direi che addirittura è gassoso, non c'è più neanche consistenza, invece noi Vescovi abbiamo il coraggio di dire la verità di Dio per l'uomo di oggi e dirla sempre con una bella maniera perché è verità semplicemente e perché l'uomo ha bisogno di luce, ha bisogno di verità. Il compito del Vescovo può creare unità, comunione, non contrapposizioni. Questo individualismo di oggi ci fa male, fa male a tutti, è l'antisocialità, mentre la Chiesa è per sua natura socievolezza, fraternità, compito del Vescovo di creare Chiesa, di creare comunione, comunione tra preti, la fraternità sacerdotale, comunione tra i laici, le varie aggregazioni, comunione tra preti e laici, una vera sinodalità. Secondo me è il compito del Vescovo come successore degli Apostoli. Oggi è più importante che non 50 anni fa, che non 100 anni fa, in un contesto culturale come quello di oggi, il Vescovo è importantissimo per la sua funzione di annunciatore della parola, quella vera, e di propulsore di unità, di comunione ecclesiale, grazie al suo presiedere dell'Eucarestia. Pensiamo all'importanza dell'Eucarestia, un Vescovo dell'Eucarestia, l'Eucarestia e il Vescovo. E vi ricordo che la Santa Messa, per ricordare i vent'anni da Vescovo di Monsignor Zenti, sarà trasmessa in diretta domenica sera alle 18.30 da Radiopace e Telepace, mentre domani sempre in cattedrale, nel pomeriggio alle 14.30, si terranno i funerali di Monsignor Franco Fiorio, già vicario generale della Diocesi di Verona, in serata alle 20.10 circa e alle 22.00 in replica, vi riproponiamo un ricordo con l'omelia dei funerali. Cambiamo argomento, nonostante i segnali di rallentamento dell'economia, il mercato del lavoro in Veneto nel 2023 ha registrato risultati positivi, migliori di quelli del 2022 e superiori anche ai livelli pre-pandemici del 2019. Crescono le assunzioni, un dato su tutti oltre 624.000 nel 2023, il lavoro dipendente nel settore privato per quanto riguarda le assunzioni e il bilancio occupazionale è buono in tutte le province. A trenare il lavoro sono i comparti di punta della nostra regione, il turismo che in autunno ha potuto beneficiare di un prolungamento della stagione per le temperature più umidi del solito, il commercio al dettaglio e l'agricoltura. Con queste parole l'assessore al lavoro, all'istruzione alla formazione Elena Donazzan ha commentato i dati relativi all'ultimo report, la bussola predisposto dal Veneto Lavoro relativi al 2023. È stato presentato questa mattina in Sala Razzi di Palazzo Barbieri il convegno Circondati di Bellezza, la cura del tempo buono, evento organizzato dalla Fondazione Verona Minori Jerusalem in collaborazione con il Comune di Verona in programma il prossimo sabato 20 gennaio nell'auditorium della Gran Guardia. L'obiettivo è quello di rendere omaggio a tutte le esperienze che attraverso il loro impatto positivo sul territorio si impegnano a generare e divulgare la bellezza. Francesca Martini. Un'occasione per celebrare la bellezza del volontariato culturale, un appuntamento certo da non perdere il convegno organizzato dalla Fondazione Verona Minori Jerusalem in collaborazione con il Comune di Verona. È programmato per sabato 20 a motivo del quinto anniversario della Fondazione che da sempre ha l'obiettivo di valorizzare, grazie al coinvolgimento di numerosi volontari, quasi un migliaio, il patrimonio artistico, culturale e spirituale di Verona. Titolo dell'incontro? Circondati o circondati di bellezza, la cura del tempo buono. Quest'anno cerchiamo di passare dalla bellezza al benessere e di coinvolgere tutta la cittadinanza. Ad oggi, dopo sette anni, dall'inaugurazione del progetto Verona Minori Jerusalem, una città da valorizzare assieme, hanno partecipato quasi mille volontari e abbiamo accolto quasi 500.000 visitatori. Quindi è anche un festeggiare insieme il dono che hanno fatto dei cittadini, la governance, quindi gli enti e le istituzioni, per realizzare insieme un progetto che poi è diventato una fondazione come forma giuridica per la città, con la città e della città. Ma visto i risultati raggiunti e la buona pratica, che è stata affinata ovviamente negli anni, adesso invece ci vorremmo impegnare con tutto, fare una rete condivisa, perché ogni cittadino non sia spettatore di questa bellezza, ma prima ne capisca il benessere suo. E poi, capendo il benessere che ti genera la vicinanza al patrimonio storico, artistico, spirituale, iniziare a capire la bellezza anche del donare. C'è un gioco nel titolo che è stato scelto in questa conferenza, è un gioco di accenti, ma degli accenti è proprio il cuore del volontariato. Quando tu, da circondati di bellezza, ne apprezzi, capisci che è una storia ereditata, che tu la puoi raccontare raccontando la generi benessere a te stesso e agli altri, allora entri in azione. Ecco, il volontario è quella persona che sceglie liberamente del donare del tempo di condividere i suoi talenti, competenze e professionalità, ma perché? Perché fare rete con gli altri e condividere. Quindi è entrato in azione. Da spettatore diventa attore e protagonista della sua città. Tanti e notevoli gli ospiti attesi al convegno. Emilio Casalini, autore e conduttore del programma Generazione Bellezza di Rai 3. Pierluigi Sacco, docente di politica economica presso l'Università di Chieti Pescara, il Vescovo di Verona, Monsignor Domenico Pompili, il Sindaco e l'Assessore Sandrini. E vi ricordo che l'incontro si svolgerà sabato 20 gennaio dalle 9 alle 12.30 nell'auditorium del Palazzo della Gran Guardia. Cambiamo argomento un comunicato della Federazione Nazionale della Sampa Italiana. Lo scorso 19 dicembre la Camera dei Deputati ha approvato una modifica al codice di procedura penale per vietare la pubblicazione delle ordinanze cautelari, integrali o per estratto fino al termine dell'udienza preliminare. Se anche il Senato dovesse approvare la norma, l'autonomia dei giornalisti sarebbe compromessa. Saremo costretti ad essere meno precisi e verificabili nel racconto di un atto che è pubblico come la privazione della libertà personale con il rischio di sapere molto poco fino all'udienza preliminare diversi mesi o anni dopo il presunto reato. Sono solo due esempi di inchieste giornalistiche che hanno trovato nella libertà di informare ragioni per arrivare alla verità e dare giustizia il caso di Stefano Cucchi e la vicenda della funivia precipitata dal Mottarone. Vi sarebbero danneggiati quindi tutti i cittadini che fruiscono le notizie, i magistrati, i legali di parte e chi è sottoposto alla misura cautelare. Cambiamo di nuovo argomento, si avvicina il 27 gennaio a Verona e si organizza per la celebrazione del giorno della memoria. Tante le iniziative messe in campo così come il giustrato questa mattina in Comune. Davvero notevole la rosa di proposte organizzata dall'amministrazione di Verona in collaborazione delle diverse realtà, istituti scolastici, università, archivio di Stato e di tutte le istituzioni e associazioni che fanno parte del comitato unitario per la difesa delle istituzioni tra cui i figli della Shoah, la comunità ebraica, l'ANED, l'AMPIS-Caligeri e l'Istituto Veronese per la storia della resistenza e dell'età contemporanea. Oltre alle tradizionali cerimonie ufficiali anche workshop, visite guidate all'ex campo di smistamento per la deportazione di Montorio, alla biblioteca civica e al ghetto ebraico per la mostra Traccia memoria del ghetto, la proiezione del film Un'ombra sulla verità al cinema Aurora e tanti incontri di riflessione. Il giorno della memoria è un giorno che ci deve spingere sempre a quella riflessione, a quel mai più che vogliamo gridare verso la tragedia dell'olocausto e verso tutte le persecuzioni operate dal nazifascismo, ma deve essere fondamentale rinnovare quella memoria riflettendo sull'impegno che ognuno di noi deve mettere quotidianamente contro le violenze, contro le violazioni dei diritti umani che vediamo oggi nel mondo proprio perché dalla tragedia dell'olocausto, dalla fine della seconda guerra mondiale è nata la dichiarazione dei diritti umani e con quella dichiarazione ad oggi non del tutto applicata deve spingerci a un impegno a prendere parte quotidianamente noi amministrazioni ma anche i singoli cittadini. Tra le novità di quest'anno anche la messa in scena giovedì 25 il mattino alle 10.30 e sabato 27 alle 15.30 dell'imperatore di Atlantide scritta da un deportato Victor Ullmann nel campo di Terezin. Per quest'anno, per la giornata della memoria, proprio nella giornata del 27, la fondazione proporrà l'esecuzione dell'opera di Victor Ullmann, l'imperatore di Atlantide, un'opera scritta nel campo di concentramento di Terezin, un'opera che poi non fu mai eseguita, è un'opera di grande valore, ricordiamo che in questo campo di concentramento furono rinchiusi gran parte degli intellettuali, soprattutto mitel europei e fu anche per ragioni di propaganda un luogo di grande produzione musicale, tra cui questo spicca sicuramente questa opera, che è un'opera a tutti gli effetti con un organico piccolo perché erano i musicisti a disposizione del compositore a loro volta presenti nel campo, opera che non fu mai eseguita perché durante le prove poi ci fu appunto il trasferimento con poi la morte di tutti i protagonisti, il compositore e gli esecutori nel campo poi di Auschwitz. Torna anche in questo 2024 con l'appuntamento mensile, il progetto Non è più notte, serate di evangelizzazione di strada, sarà pronto questo sabato 13 gennaio. Gruppi di giovani adulti che nelle strade e nelle piazze del centro storico di Verona propongono l'incontro con Gesù e Eucaristia nella chiesa di Santa Maria Antica alle Arche Scaligere che sarà aperta in modo straordinario durante la serata, appuntamento al quale partecipano sempre numerosi turisti e anche tanti veronesi. La preghiera sarà animata. L'inizio della preghiera aperta a tutti sarà dalle 21 e 30, mentre chi fosse interessato a partecipare all'evangelizzazione la formazione sempre a Santa Maria Antica inizierà a partire dalle 17 e 30. Ed in chiusura come sempre il venerdì spazio, l'ultimo numero del settimanale, Verona Fedele. Cari amiche e cari amici di Telepace, un saluto alla redazione di Verona Fedele in questo freddo gennaio che inizia l'anno. Parliamo nel prossimo numero di Verona Fedele di nuove strutture, nuovi servizi e nuovi macchinari per la sanità veronese, sia i due grandi spedali cittadini sia il Sacro Cuore di Negrano. La sanità veronese è un'eccellenza nazionale, continuerà ad esserlo appunto ingrandendosi e migliorando. Festeggiamo in questi giorni, ci sarà una messa speciale in Duomo, i vent'anni di episcopato di Monsignor Giuseppe Zenti, che è stato vescovo di Verona fino al 2022. Ora, ci racconta, si dedica ad aiutare appunto la Chiesa di Verona comunque e alla preghiera e al suo adorato Sant'Agostino. Abbiamo intervistato uno dei più importanti imprenditori veronesi, Silvano Pedrollo. La sua azienda è una multinazionale che produce elettropompe per tutto il mondo. Soprattutto lui è un imprenditore, una persona di estremo valore e ha capito che la ricchezza non solo si deve produrre, ma poi deve anche generare bene e solidarietà. Vediamo come. Infine, gli stimatini hanno aperto un percorso d'arte molto interessante nel ricordo dell'opera di San Gaspare Bertoni. Un saluto da Nicola Salvanini. Con questo è tutto e vi ringrazio per l'ascolto. Vi auguro una buona serata con i programmi di Telepace. A presto.